rotto 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 lei ma assisti in merda aiutami 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 bro rotto un altro l'ultimo 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 ma l'ultimo raga moto devi stare c'è li stiamo proprio tenendo a baro guarda che roba tutte se ne son prese no no lo split kit è super chill ma va spari ovunque infatti adesso ci scassiamo Nico tra l'altro è già online hai messo la recensione è messo la recensione su split gate si mi piace easy pulito oh jesus mi fai morire abbiamo sei portali però non è possibile che avvi un joypad 80 euro di obono si sfotte nell'arco di sei mesi eccolo ho fatto la tripla bro doppia l'ultimo eccolo è scomparso l'altro eccolo ho fatto uno sono in serie no finito i colpi cazzo non solo tre ne aveva ecco l'uno di qua wow grande l'ho beccato dall'altro questo sta impazzendo bro ecco da dietro l'ultimo quattro secondi tre secondi scomparso è camperato bene maledetto qua eh wow il br ho finito i colpi è morto è morto bravo dove sta dove sta minchia guarda come sta camper maledetto eh questa mappa ci si può nascondere per bene oh ma ha distrutto ma ha distrutto è one hit ma friend don't die don't die don't die like this minchia zio lo stavo torturando non andare sei tu a noi lui che botto occhio occhio aspetta aspetta super bibi bro ok ok zico quanti sono? io ne ho visto uno sono tre eh zio mi hanno distrutto fatto 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 però son morto eh son morto eh questo 1 a 1 1 a 1 dai stiamo uniti stiamo uniti ti seguo dove sei? sotto vai ti seguo ti seguo a me prendo il meter ecco lì qua io ci sono ci sono dove? qua occhio anche da dietro occhio da dietro no zio ma ha distrutto anche a te t'ha preso ma quanto sono coordinati questi non bisogna stare uniti bisogna fare porco no no zio dobbiamo agire la scucia è potente dobbiamo agire la scucia allora io sparo un portale sulla sinistra e lì fling qua a sinistra tu fai la stessa cosa a destra cerchiamo di chiudere a panino adesso sono a sinistra allora io porto a destra e tu a sinistra vai 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 svapiamo svapiamo smash point non va bene attenzione l'ho vista in mezzo siamo in grado di in mezzo eccolo 25 uno fatto uno fatto 30 eccolo sotto 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 30 di danno a uno è quasi morto no l'amico è morto come un piccio ti giuro aia a sinistra sparano becca 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 traccato traccato sopra ho più dietro fatto no uè questo era qua dietro azzechi ti aspetto eh stiamo uniti stiamo uniti bro lo pushano lo pushano fatto uno andiamo andiamo vai vai rotto rotto l'ultimo 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 eccolo qua sotto qua sotto è qua da me pietro dall'alto pietro dall'alto pietro dall'alto zio ma tu sei morto bro dov'è l'ultimo eh sono due vai 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 dai amico vai dai amico confident confident lì 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 fattolo fatto no è mezzo morto è mezzo morto non ci credo raga non ci posso credere vi aiuto vi aiuto pushiamo adesso lo chiudiamo a panino sotto di me devo giocare ad astuzia che qua rotto a stechi minchia questo qua nel portale oh zio fanno delle plays con i portali questi ma faccio un altro fatto 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 dietro 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 fuoco 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 si è la porta alla vittoria fuori guasso scena sotto un altro sotto un altro sinistra sinistra uno sinistra uno nemmeno a sinistra bro questo da dietro no ci ha distrutto ci ha distrutto ma il menato questo giro hanno menato mi hanno try ho fatto pietà ho fatto no non è vero no assolutamente mi hanno ammazzato mille volte ho ammazzato post allora le classificate possono essere o takedown la modalità che abbiamo fatto adesso oppure 4 di 4 classificata o entrambe facciamo entrambe vediamo cosa esce fuori dai vai attenzione abbiamo due capi contro capo bruce e capo drago 35 oh è takedown è takedown bro è takedown siamo 3 contro 3 ok ci siamo abbiamo admin ah pistolina attenzione qua uno uno ho preso uno ho fatto 30 di danno dietro due dietro due dietro hanno fatto il giro minchia hanno tornato subito hanno tornato sono bravissimi questi sono bravissimi è in cazzo a sera inquisito porca roia siamo noi le schiappe arrivo verso di voi fatto arriva uno da me rotto 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 lei ma assisti in merda aiutami 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 bro vado qua ho rotto un altro l'ultimo 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 raga nooo ho fatto il panico cazzo grande dove è l'ultimo dove è l'ultimo sotto di me guarda me arrivo fatto attraverso il portale hai qualcosa dietro fatto lo fate l'ultimo 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 let's go rispondiamo eh giochiamo di nuovo così uniti in realtà non abbiamo giocato per un cazzo uniti farò ci sono uscite del place bell guardateo zio scappano come delle anguille no attenzione qua c'è capo brusso in mezzo fatto? a tre vinci di vita guarda me siano due pippe sia io che lui nice grandissimo le granate le granate ce le abbiamo questo va dritto fortissimo bro è dieci di vita fortissimo dai zio panciullo è rotto là dentro oh panciullo non può da me vuol dire che la grande tosta eh grande grande bro niente no wow dieci di vita panciullo minchia gli avevo fatto una turnata poraccio spara 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 bravissimo bravissimo minchia da me un treno bro porca broia guarda che roba grazie a lui che stiamo vinti guarda che roba c'è in bot l'amico wait my friend wait my friend we can do that bravo bravo minchia peccato preso manciullo dai il più forte è andato perché ho gli altri due vado da adam che sta combattendo qua due qua due uno rotto fatto c'è ancora uno qua l'altro là altri sono due uno preso bravo bravo l'altro preso l'ultimo che cazzo è non lo trovo porca paria si è camperato bravo adam gg my friend take down si è incarichi bro saremo con lo spagnolo alla grande a spagnolo questo qua due uno rotto 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 sta scappando bello morto no no due morti eccolo qua ci sono ci sono andiamo ad xbox pass ha fatto il oh zio ma questi fanno or pani con quei portali fatto uno c'è l'altro io dietro nello solo sobra sono morto grande broski grande è arrivato alla minica a pushare grande marco 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 questa è unita scappuffata marco ma a volte mi parte il pugno al bosco di sparare ma hanno distrutto sono morti oh bella bella marco le snarcos andiamo compatti però non saliamo più fai salire loro ti seguo tu mira lì solo eccolo là io faccio sta place che è banale però non se la spero questo è rotto questo è rotto questo è rotto questo è rotto dietro porc dietro col portale era lì era lì sono tre qua camperati stanno camperati libro ho capito adesso stanno camperati mi segue mi segue mi segue sono morto bro mi suicido bravo bravo copri 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 dov'è no way da dietro ma no da portale da portale ma non c'è la frenata lo ha messo quando lo girava oh come giochiamo ti seguo bro diventa unitissimi ti seguo andiamo qua faccio la tua allora rotto uno e poi andiamo qua sinistra uno qua sinistra uno gli passo qualcosa dietro fatto uno bravo arrivo sotto quant'è ah sopra mi sparano rotto 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 fatto pure scappato comunque qua uno ma da dietro l'ultimo l'ultimo 10 secondi per ucciderlo bravo 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 dai match point eh nisa attenzione fatto uno l'altro è rotto l'altro lì dietro io vado io vado io vado guarda dove si è camperato guarda dove si è camperato l'hai visto pazzesco l'ho ucciso dobbiamo minchia sta roba è da sfruttare dietro dietro dal portale nice grande Marcos eh l'ho ammazzato io scusa grande no no hai fatto bene attraverso il portale è passato fuggito no 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 non andare lì non andare lì non andare lì camperano camperano lì bro loro camperano sempre qua vabbè l'ho ucciso buono eccolo qua fatto uno fatto uno vedo 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 che cazzo urla questo no zitto zitto bro no 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 tienes già è tu eccolo uno da me sono tre zio fatti due fatti due fatti due fatti due l'ultimo guarda me guarda me grande let's go oh quarto livello questo se non sta zitto io ci giuro devo notarlo ah ma tu c'hai il VoIP disattivato vero e che Dio cosa? ah le voci? si non senti lo spagnolo no no ti giuro strano perché non ce l'ho disattivato no no ma si non si è giocato ok beh vabbè eh è insiliziabile raga mi spiace ah si? ma secondo me ti sta trasmettendo attraverso noi mi sa che esatto ti staccheranno mi sta craccando tutto sei su meet con noi cos'è questo? è della collina ma no ma scusate ma non hai vinto la vauella ma no eh bollivamo ma ci avrà un pregato voi minchia zio tutti la parte opposta io vado gli embraso ho fatto uno io sto giocando a uccidere però non va bene no dobbiamo puntare no ho sbagliato tutto dalla vita oh muoio o no ah no da c'è a portare dietro proprio ma c'è proprio il portale di dietro zio c'è a portare dietro ah eccolo lì è vero bravo bravissimo bravissimo oh ha rotto no no ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono oh questo non era minchia full vita questo pazzesco buono qua arriva fatto no devo caricare aiutami amico perché l'amico non spara perché non c'era l'amico è morto lo sapevo che era morto l'amico è svenuto bro mi fa mi fa mi fa aiutami fatto eh zio son mille son mille ma dove state voi fatto 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 dietro 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 lo rotto lo rotto ok buono fatto 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 teniamo teniamo posizione bravo sparare a sotto qua 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 è salito uno minchia bravo 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 ci sono ci sono ci sono bravissimo ah c'è un'altra c'era la becca 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 c'è uno con la mazza bro eh non lo so sentito uno con la mazza mi sa che vicino ah ho sentito il buon è anche ah ce lo io la mazza è morto il tipo fai le vini fai di venire arriva da qua ho visto qualcosa sento lo dietro ma questo sta full full vita questo non l'aveva colpito ah ma prego non sei neanche vista l'animazione della mazza quello che è sempre in collina mister mister qua pirla muto devi stare mamma mia grazie c'è li stiamo proprio tenendo a bar guarda che roba boh c'è solo il cecco ma c'è solo quinto mamma mia poraccia queste se ne son prese ciao Grazie a tutti.